Cari fratelli e sorelle, ogni guerra porta con sé strassici che convolgono tutta l'umanità, dai lutti al dramma dei profughi, alla crisi economica e alimentare di cui si vedono già le avvesaglie. Davanti ai segni perduranti della guerra, come alle tante e dolorose sconfitte della vita, Cristo, vincitore del peccato, della paura e della morte, è sorta a non arrendersi al male e alla violenza. Fratelli e sorelle, lasciamoci vincere dalla pace di Cristo. La pace è possibile, la pace è doverosa, la pace è primaria responsabilità di tutti. Grazie.